Maria buongiorno, siamo qui a Laguna Matata per il primo incontro dei quattro previsti di bioenergetica. Ma che cos'è la bioenergetica Maria? Ecco, mi fa piacere che mi fai questa domanda, perché la bioenergetica esiste dal 1940. Prima ideata come vegetoterapia di William Reich, poi è evoluta come possibilità di farla insieme a tutti con Alexander Lowen, il quale ha pensato che anziché fare solo psicoterapia, che praticamente costa un sacco di soldi individuali, si poteva fare qualcosa insieme, in gruppo. E questo perché il gruppo funziona molto bene, anche coadjuvato da qualsiasi tipo di psicoterapia. Perché il movimento psicocorporeo parte dalla punta delle dita, dei piedi, fino alla bocca e agli occhi. Gli occhi migliorano la vista, anche le persone con dei difetti della vista. Ogni movimento viene accompagnato o da risate o da voce. E questo perché? Per evitare di stare a pensare come respirare e per evitare di fare un movimento che noi non respiriamo. Mentre bisogna respirare profondamente, fino al perineo. Qualcuno dice che cos'è il perineo? Ecco, è quella parte di noi che prende precisamente quando noi siamo seduti sulla bicicletta. Quindi prende in questo modo sia i genitali che il lano. Quindi quando noi respiriamo fino a quella parte dove noi nasciamo, tra l'altro, l'energia e la respirazione arriva fino alla punta dei piedi, dà un massaggio a tutti gli organi e ci dà salute vibrante. Scendiamo con le ginocchia. Dove arriva adesso il respiro? No, ai ditori, ragazzi. Scende un po' di più, vero? Ecco, quindi siccome per avere salute bisogna avere la respirazione fino al perineo, e in realtà dopo che abbiamo riso, abbiamo urlato, scalciato, eccetera, eccetera, Il corpo vibra. Le persone hanno un po' paura della vibrazione, eppure io la prima volta ho avuto paura, però è quella che purifica il corpo dalle energie negative. E l'oven dice una cosa bella, è come quando il mare va in burrasca per liberarsi da tutti i detriti. E noi dovremmo liberarci da questi detriti tutti i giorni, ecco. Quindi ci insegnerai a farlo questo? Certo, oggi. Oggi e i prossimi incontri? E i prossimi due, quattro incontri. Perfetto. Certo, già stiamo dando energia a tutti gli organi interni del corpo. Perché io mi auguro tanto che le persone facciano più energetica tutti i giorni, che si facciano nelle scuole, negli uffici, perché la salute che ha dato sia a me che a mio marito è qualcosa di veramente molto molto piacevole. Non diciamo la tua età, ma diciamo... La puoi dire tranquillamente. Allora, Maria ha 82 anni. Che li compio il 27 luglio. Complimenti, perché stai informissima e sarà proprio la bioenergetica. Grazie alla bioenergetica, sì, perché devo dire che essendo cresciuta durante il periodo della guerra e avendo avuto delle disgrazie familiari molto più potenti per via della guerra, io ho avuto delle malattie molto gravi e fino a che non ho incontrato la bioenergetica sono sempre male. Ecco perché io credo a fondo nella bioenergetica, perché mi ha dato la salute, la gioia di vivere e devo dire anche l'armonia delle forme del corpo. Ecco. Tra l'altro hai scritto anche un libro su questo. Sì, sì, sì. Bioenergetica per tutti, prevenzione e benessere. È un altro libro che ho presentato di recente, si chiama Felicemente Narcisismo. Ah no, ecco, era questo. Le risorse della bioenergetica, perché in questo ultimo libro mi sono decisa a descrivere dei casi clinici molto molto gravi. Piediamo le ginocchio che forziamo e arricciamo tutta la faccia. allora non vediamo l'ora di iniziare e capire come funziona appena arrivano tutti quanti grazie maria allora adesso vedremo quello che fai grazie a te che ti posso dare la mano